Ciao bella raga, benvenuti in questo nuovo video da Ciro. Allora, sono finite le feste. Come avete passato il periodo natalizio e l'epifania? Oggi vi porto un nuovo gossip. Ancora si parla di Jean Yaman. Cosa dice a Demet? Andiamo a vedere cosa ha detto. Jean Yaman ha detto Demet sulla storia finita con l'Aleotta. Si parlava addirittura di follia d'amore quell'annata a Roma tra il bell'attore turco Jean Yaman e la conduttrice italiana di Letta Leotta. E ritroviamo la coppia insieme, tra sorrisi e abbracci e anche qualcosa di più. Ma qual era la stata al tempo la reazione della collega di Jean Yaman Demet o Demirà alla storia d'amore del bel Kena? Eccoci qui ragazzi. Comunque grazie che vi iscrivete sempre al mio canale. Siete tantissimi, questo è sempre per voi. Mi raccomando, cliccate sulla campanella, mettete sempre un like e scrivete un commento sotto a questo video qua. Noi ci vediamo al prossimo video. Da Scenomancire è tutto. Ciao bella raga.